Cioè, vi rendete conto dove sono? Eh? A mangiare i fichi? E non hanno paura di me? Siamo nella campagna aretina, non molto lontano dalla città. Il video che ci invia una nostra telespettatrice, dove si vede un vero e proprio branco di cinghiali nel suo giardino scorrazzare, fare incetta di cibo, sarebbe buffo e simpatico, se il problema però non fosse davvero serio e importante, soprattutto per gli agricoltori e per la sicurezza stradale. Ora siete diventati un po' troppi. Risale a poco tempo fa, infatti, l'ultimo incidente, purtroppo mortale, nell'aretino, provocato, pare, proprio da un ungolato. Era accaduto il 10 agosto scorso a perdere la vita un motociclista di 57 anni lungo la E45. Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, indagano i carabinieri, il motociclista stava percorrendo la superstrada quando si è trovato di fronte un cinghiale che l'ha attraversata. Queste sono ovviamente le conseguenze più gravi, ma gli incidenti stradali provocati da ungulati sono numerosi. E per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, sono innumerevoli ormai le proteste, le prese di posizione e soprattutto le richieste di una gestione più incisiva della popolazione degli ungulati in Toscana, richieste rivolte ovviamente alle istituzioni preposte.